Roberto Procelli era un giovane toscano d'Andiari che lasciò i suoi vent'anni fra le macerie della stazione di Bologna e nella strage che uccise con lui altre 84 persone, lasciandone ferite 200 il 2 agosto del 1980. Gli sfregi come la morte di Roberto non si dimenticano e come ogni anno l'amministrazione comunale di Andiari rinnova l'appuntamento in memoria di Roberto, un giovane toscano vittima innocente di un attentato. Domenica prossima, in Piazza del Popole, le ore 21, Andrea Merendelli e gli Stra propongono lo spettacolo Clash to Me racconto punk di provincia con musiche dei Clash eseguite dagli Stra. È una storia suonata, cantata e raccontata con rabbia, umori neri e ironia. Nasce dall'amore profondo dei viscerale per l'avventura musicale dei Clash, l'unica band che conta, come è stata definita dal più gran critico rock di tutti i tempi, Lester Banks. Clash to Me nasce dai ricordi di 25 anni d'Italia, di Toscana, di provincia minore e marginale, che ha segnato e a volte appunto sfregiato le nostre vite. Qualche settimana prima delle 10 e 25 del 2 agosto del 1980 i Clash suonano a Bologna. Chissà se Roberto avrà visto i Clash dell'infuocato concerto di Piazza Maggiore. Un mese dopo Roberto sta tornando a casa, forse ha visto quel concerto. Da questa domanda, che si ripropone da 25 anni, dalla morte di Roberto e dalla morte di Joe Strammer, voce dei Clash, nasce il racconto punk, visione adulta dei ricordi di giovani sbandati che vivono nella ridente Toscana e sognano Londra e il degrado urbano. Una storia di giovani autosclusi, ora maturi e integrati, riassorbiti in questa bella società che a parole rifiutavano. Ex giovani punk senza meta che oggi hanno 40 anni, sono pelati e con la pancia sfatta. Una ex gioventù bruciata che oggi vive una maturità allessata. Andrea Merendelli racconta con rabbia urgenza, poesia e assenza di ogni retorica da palcoscenico. Fa da sfondo alla sua storia la musica suonata dal vivo dagli strà, una band che non ha mai considerato e Clash un ex gruppo.